Bella a tutti ragazzi e benvenuti sono MightyMars siamo qua oggi con un video un po' diverso dal solito perché oggi vorrei parlare degli sconti Steam siccome ho visto che ci sono parecchi sconti molto molto carini su Steam per a lui io direi di dargli un'occhiata un'occhiata allora io direi di partire subito con The Bay Daylight perché abbiamo The Bay Daylight che conoscete ovviamente tutti è inutile estersi e dilungare molto su questo gioco dello sconto del 50% invece di 20€, 19,99 per la precisione l'abbiamo a 9,99 quindi è un gioco che molti di voi conosceranno per i pochi che ancora magari erano un po' indecisi su questo gioco ve lo consiglio alla modica cifra di 9,99 chiaramente una premessa va fatta come vedete ho anche messo un dislike a questo gioco semplicemente perché non comprende, non concepisca questa invasione di DCL a pagamento in un gioco che è ancora in accesso anticipato perché chiaramente se io pago un accesso anticipato è giusto che i lavori che usciranno io li ho già pagati perché io ho già pagato un accesso anticipato quindi non vedo perché oltre l'accesso anticipato devo pagare anche tutti i DCL e questo diciamo è una mia presa di posizione che può essere condivisa o non condivisa però non mi sento comunque di sconsigliare l'acquisto del gioco perché comunque è un gioco che nonostante questo è un gioco divertente è un gioco che io ho giocato anche parecchio e non posso non consigliarlo chiaramente se vi ho consigliato The Bedelite come posso non consigliarvi venerdì 13 un gioco del maggio 2017 quindi non diciamo di quest'anno è uno sconto ottimo del 50% da 36,99 che secondo me è un prezzo un po' eccessivo si va a 18,49 per 18,49 secondo me è un gioco molto molto carino chiaramente questo è un survival horror abbastanza conosciuto anche questo gioco qua questo è un gioco un pochino più particolare perché è fatto diciamo per i fan di Jason quindi vi deve piacere il gioco survival horror multigiocatore dedicato a Jason è un gioco anche abbastanza violento perché si basa praticamente sull'uccidere i poveri sprovviduti che si trovano nel campeggio però è un gioco che merita un piccolo appunto da fare anche su questo gioco qui che comunque gli sviluppatori non ci sono molto dedicati a questo gioco qui in quanto essendo non accesso anticipato ma un gioco finito è ancora pieno di molti bug quindi vi troverete all'interno del gioco a combattere con molti bug anche abbastanza noiosi su questo gioco non ancora risolti speriamo che poi gli sviluppatori risolvano tutte queste problematiche e poi per non parlare del single player che doveva uscire a fine agosto e ancora ad oggi non abbiamo visto niente ma nonostante questo è un prodotto comunque godibile, giocabile e molto molto divertente vi consiglio abbiamo Planet Coaster che è un gioco che io stavo adocchiando già da molto molto tempo è un gioco gestionale di costruzione e di simulazione qui praticamente dovete costruire il vostro Luna Park renderlo appetibile ai turisti che vogliono entrare e divertirsi molto carino, gestionale perché comunque avrete un budget avrete tutte le spese, tutte le entrate, tutte le uscite tutte le cose che costruite avranno comunque un costo dovrete mantenere sia il mantenimento di un edificio dovrete prendervi cura di tutti i turisti che entreranno nel vostro Luna Park perché comunque ognuno di loro avranno le loro esigenze ed è quindi molto 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 carino chiaramente ad un prezzo di 37,99 secondo me non era molto consigliabile perché comunque è un po' caluccio ma con uno sconto del 45% al 20,89 secondo me è un prezzo ottimo è un gioco che vi consiglio molto Seven Day to Die anche questo è un gioco molto molto conosciuto del 13 dicembre 2013 quindi ha già un bel po' di anni ma devo dire che dall'inizio di quando è uscito questo gioco qui ad oggi gli sviluppatori ci hanno lavorato molto 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 ed è cambiato tantissimo dagli esordi di questo gioco qua con uno sconto addirittura del 62% quindi veramente tanto ad attuare il 73% invece di 22,99 euro è un gioco che vi consiglio molto io ci ho giocato veramente tanto ed è un gioco che appassiona appassiona perché è veramente vario possiamo fare praticamente di tutto era praticamente inguardabile siamo arrivati ad oggi credo sia all'Alfa 16 se non mi sbaglio ed è veramente vario è un gioco di sopravvivenza zombie con un crafting veramente veramente infinito possiamo costruire e distruggere qualsiasi cosa con uno sconto addirittura del 62% quindi veramente tanto ad attuare il 73% invece dei 22,99 euro è un gioco che vi consiglio molto io ci ho giocato veramente tanto ed è un gioco che appassiona appassiona perché veramente vale possiamo fare praticamente di tutto ovviamente The Forest perché non consigliarvi The Forest un gioco del 30 maggio 2014 ancora oggi in accesso anticipato con uno sconto del 25% invece che pagarlo 14,99 lo pagherete 11,24 che mi sembra un prezzo adatto anche questo è un gioco dove gli sviluppatori ci hanno lavorato tantissimo e ad oggi diciamo è un gioco molto molto completo e se non ancora in accesso anticipato potrebbe ancora riservare delle belle sorprese perché no ma questo è comunque un gioco di sopravvivenza mondo aperto indie anche questo dove ha una grandissima dose di crafting e quindi io ve lo consiglio perché è molto molto divertente e carino per soli 11,24 euro mi sembra una spesa adatta It's Com 2 It's Com 2 è un gioco che diciamo io sono stato appassionato molti anni su questo su questa tipologia di gioco proprio su It's Com 2 e lo giocavo in tempi non sospetti negli anni 90 quando It's Com era totalmente un'altra cosa sempre uno strategico a turni contro gli alieni ma aveva una grafica praticamente inguardabile siamo arrivati ad oggi dove It's Com 2 o It's Com anche il precedente ha comunque una grafica molto molto competitiva ed è un prodotto secondo me molto divertente molto godibile molto giocabile chiaramente vi deve piacere la strategia a turni come tipologia di combattimento ma è molto molto vario non è un open world perché comunque combatterete in una zona prestabilita anche se comunque ci saranno molte varianti abbiamo uno sconto del 60% quindi un sconto ottimo invece che pagarlo a 49,99 che è un prezzo secondo me un po' esagerato a 19,99 è un prezzo secondo me molto molto accessibile This War of Mine questo è un gioco molto molto particolare è un survival di guerra la particolarità di questo gioco è l'ambientazione dell'atmosfera che è molto molto coinvolgente vi sembrerà nonostante questa diciamo grafica quasi disegnata anzi disegnata proprio ma vi coinvolgerà a tal punto che vi sembrerà veramente di vivere il momento abbiamo uno sconto addirittura del 75% quindi tantissimo forse uno degli sconti più alti invece che pagarlo 19,99 che comunque anche a 19,99 io lo consiglierei e lo paghiamo solamente 4,74 quindi ragazzi che magari questo gioco l'abbia visto da qualche parte qualche gameplay e poi non l'abbia comprato per vari motivi adesso potrebbe essere il momento giusto nonostante sia un gioco del 2014 molto molto valido sia come giocabilità come grafica e come gioco in sé veramente valido poi 4breaking 4breaking è un altro gioco che mi sento di consigliarvi uscito il 28 febbraio 2017 dalla Iron OH Game è un gioco praticamente sempre un accesso anticipato un GDR strategico d'avventura si possono fare anche le cooperative quindi è molto molto carino c'è la lingua italiana quindi è quasi un miracolo ed è molto molto carino io ve lo consiglierei io questo gioco non ce l'ho però sto pensando se comprerlo o no abbiamo uno sconto del 25% invece che pagarlo praticamente 14,99 lo paghiamo 11,29 ed è molto molto carino credo che comunque anche questo sia comunque una strategia a turni se non mi sbaglio quindi anche qui vi deve piacere il genere GTR con strategia a turni abbiamo anche Hard West un gioco del 2015 per gli amanti di chi non vuole spendere tanto vuole comprarsi magari più di un paio di giochi non spendendo tantissimo questo ha soli 4,99 invece che 19,99 quindi con uno sconto di ben 75% è un gioco di strategia a turni sempre western e gdr questo gioco è molto secondo me è molto carino perché a me piace molto la strategia a turni mi piace molto il western quindi unisce molto bene le due cose ve lo consiglio perché comunque adesso 20 euro io non sinceramente non ce li tirerei però 4 euro perché no Naval Action un altro gioco che sto tenendo d'occhio già da tanto tempo è un gioco di battaglie navali è un simulatore vero e proprio e questo diciamo che questo è molto è un gioco molto lento non è un gioco veloce infatti i combattimenti possono andare anche dai 20 ai 30 minuti un singolo combattimento questo è un simulatore vero e proprio di battaglie navali ai tempi dei pirati e quindi vi deve proprio piacere il genere però è un gioco comunque secondo me fatto bene è un gioco in accesso anticipato anche questo quindi sicuramente se gli sviluppatori ci lavoreranno sopra potrebbe migliorare ulteriormente l'unico difetto che comunque non c'è la lingua italiana quindi qui un po' magari un pochino se è un simulatore un pochino di conoscenza in lingua inglese non farebbe male però comunque è un riscontro del 60% invece che pagarlo 36,99 che mi pare un po' eccessivo per 14,79 euro se vi piace il genere ovviamente quindi guardatelo bene prima di comprarlo ve lo consiglio un po' eccessivo grazie a tutti